Il corso di cui parliamo è il corso di metodologie chimiche per prodotti e processi, che è un corso professionalizzante, una nuova classe di lauree. L'obiettivo fondamentale di questi corsi è facilitare l'inserimento del mondo del lavoro. Sono corsi progettati insieme alle aziende che vengono sviluppati su una didattica innovativa. La didattica innovativa si basa dal imparare facendo, che comporta quindi l'utilizzo di moltissime ore del corso in attività di laboratorio, di esercitazioni, attività con le aziende. In particolare in questo corso chiaramente sono coinvolte moltissime aziende chimiche che hanno sviluppato insieme ai docenti il programma del corso spesso.